La prima persona La prima persona Mi piace vedere la gente che viene, la gente che va, Pensare un momento a quante cose un singolo fa Uno normale esce di casa alla mattina Uno normale si ferma troppo spesso a pensare a cosa dire A cosa fare, a trovare un modo per campare Una soluzione utile, non troppo facile perché Altrimenti non sarebbe normale E quante volte incrocio sguardi persi in viaggi lunghi E complicati, forse belli, forse no Uno normale si aspetta che faccia freddo a Natale Uno normale si spacca le mani per lavorare A cosa dire, a cosa fare Quando lo aspetti e non lo vedi arrivare Sarebbe più semplice mandare tutto a puttane ma Uno normale non lo può fare Deve restare Deve restare Deve restare Ma restare solo con un incudine nello stomaco Ti rende giusto più pesante e non più forte Uno normale cammina per strada leggero Uno normale prende ogni giorno lo stesso treno E cosa dire E cosa fare Quando ti affacci alla finestra e vedi il mare E ti abbandoni un po' le sue carezze lontane Per una volta smetti di pensare Uuuuuh Grazie a tutti